Ed eccoci alla campagna della TGR dedicata al turismo. Questa sera vi parliamo delle mura di Padova. Per valorizzarle viene riproposto anche quest'anno un museo multimediale. Stefano Edel. Le mura di Padova rappresentano il più esteso monumento storico della città, 11 chilometri di lunghezza e uno dei suoi simboli più importanti. Ecco allora che per valorizzarle ancora di più si è deciso di riproporre per il secondo anno consecutivo il museo multimediale che consentirà attraverso visite guidate di scoprire i segreti di un patrimonio di rara bellezza. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e sostenuto dal Comune, viene illustrato così dal responsabile Ugo Fadini. È nata questa idea perché Padova possiede una cinta muraria tra le più importanti del mondo per il momento in cui sono state costruite, per come sono state costruite e per la loro ampiezza. 11 chilometri, non c'è un'altra cinta sopravvissuta fino ad oggi di questa lunghezza se non Roma, ma sono mura romane. Allora farle conoscere era la prima necessità. La seconda necessità era farle conoscere in un modo che fosse accattivante e non fosse il solito museo con i reperti, con i pannelli, eccetera. Un'avventura, diciamo, un racconto anche divertente nei limiti possibili che faccia propaganda a questo monumento sconosciuto.